Quarto modulo del corso di formazione sul microcredito sociale organizzato dalla Fondazione Giovanni dalle Fabbriche e dalla Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Molese. E' proprio sul microcredito che oggi il credito cooperativo gioca la sua carta identitaria più importante, quella di promuovere benessere e sviluppo nella comunità locale. Si tratta di un impegno su cui si è già sviluppata una sperimentazione che ha dato risposte positive e attraverso il quale oggi si avvia una fase nuova del servizio alle comunità locali, in collaborazione con altri soggetti economici istituzionali del territorio. Il progetto nasce da un accordo siglato a novembre dello scorso anno tra la Fondazione Giovanni dalle Fabbriche e il credito cooperativo Ravennate e Molese e enti associazioni e caritas territoriali. Lo scopo e l'obiettivo principale è quello di sostenere delle situazioni di particolare disagio economico-sociale, portare avanti dei progetti da parte di micro imprese ritenute meritevoli in ambito etico e sociale, situazioni che per situazione economica o mancanza di garanzie sono ritenute non bancabili, quindi non hanno la possibilità di accedere ai canali tradizionali del credito. Si parla quindi di microfinanziamenti, per privati possono arrivare fino a 10.000 euro, per piccole imprese o cooperative possono arrivare fino a 25.000 euro, per una durata di tre anni che può essere allungata laddove ci sono le condizioni a cinque anni e la possibilità di posticipare la prima rata fino a sei mesi. Ovviamente non si parla di puro assistenzialismo, non si parla di bancomat gratuito, viene richiesto un impegno, una responsabilità da parte dell'assistito e di cui un ruolo importante è quello delle associazioni che attraverso i propri tutor cercano di andare a trovare quelli che sono i bisogni e le necessità del nostro territorio compatibili con questo strumento che deve essere un'opportunità. Dottoressa Truglio, lei ha tenuto e seguito tutte le lezioni di questo corso di formazione, qual è stato il percorso che è stato seguito nel corso di questa attività? Il corso si è articolato in quattro moduli, il primo modulo è stato tenuto dal professor Minardi e ha rintracciato le radici del credito sociale anche nel nostro territorio, nella esperienza nazionale per distinguerci in qualche modo dal collegamento che si fa rispetto all'argomento microcredito a Yunus e al Bangladesh. Il microcredito è anche una nostra esperienza, fa parte anche del nostro patrimonio socioculturale. Il secondo modulo è stato tenuto dalla dottoressa Rita Vecchi e ha riguardato le caratteristiche proprio operative del microcredito come operazione strettamente bancaria. Il terzo e quarto modulo è stato tenuto da me e dalla dottoressa Annalisa Roda, psicologa, e riguarda la metodologia del microcredito, cioè fornire un percorso operativo, una griglia per poter fare microcredito con le persone, facendo un progetto sia strettamente economico ma sia psicosociale, quindi di riscatto non solo dal punto di vista strettamente economico ma anche dal punto di vista della persona, della persona intesa appunto nei termini psicosociali. E questo metodo è un'indicazione di massima potremmo dire perché le singole circostanze, le situazioni concrete che vengono a crearsi devono poter utilizzare questo strumento in modo duttile a partire dalle circostanze concrete che si pongono davanti agli operatori, agli assistenti sociali, ai volontari, alle associazioni e ai servizi.